ciao allora oggi sfogliamo insieme l'album numero 15 del libro che va da fino al 5 dicembre 2018 un album pieno di idee regalo oltre all'album di natale perché troviamo il set per la cuore del viso, il set per le mani con i detergenti e le creme a mani, il set per cuore del corpo della linea Leplia Signature, gli ultimi pezzi della collezione natalizia 2017 quindi l'ultima occasione per prenderli e sono in edizione limitata, poi il set e i make up soprattutto con l'occhi, le promo per con gli shampoo e quindi direi che questo è un bel album da iniziare subito a sfogliare. Eccoci qui allora iniziamo perché è un album davvero ricco, vediamo intanto le promozioni, eccoli qui dei set per la cura del viso, questo 2695 ed è della linea rughi luminosità con il trattamento levigante giorno più il trattamento notte più il vanity, se no abbiamo anche eccolo qua il dono di belletta quindi il trattamento rughe luminosità con il roll on occhi più la maschera illuminante più la trousse che è bellissima super brillantinosa o se no anche delle altre linee quindi rughe compattezza e set giorno e notte più il vanity, se no ho fatto troppo avanti eccoci qua, l'altra linea, poi della lifting sempre stessa cosa, della riche creme, in questo caso abbiamo una trousse che contiene la salvietta viso e la fascia per i capelli più il trattamento giorno e notte, vediamo eccola qua, anche eccola qua, è l'antimacchia con il correttore mirato più il siro perfezionatore più il set da viaggio e poi abbiamo questa confezione con la fascia per i capelli ed è in cotone e la spugna per il viso, stessa cosa per l'elite siro jeunesse, eccola qua, è l'antimacchia con il correttore mirato più il siro perfezionatore più il set da viaggio, poi il set da viaggio, poi il set per le mani e quelle qui che comprendono a 495 la crema mani più il sapone e in questo caso al cocco, ma comunque sia di tutte le profumazioni e quelle qui che sono disponibili, quindi quella vaniglia barbon, oliva e pettigrain, mango e coriandolo, lampone e menta piperita, lavandina e mora oppure mandorle e fiori d'arancio, altra promozione se no che vediamo sono le confezioni di Alina Le Pleas de Nature che comprendono il latte corpo più il bagno doccia più la confezione, in questo caso è quella da vaniglia e abbiamo anche il set più grandi, quindi il cofanetto, con il latte corpo, bagno doccia e da 200 ml, poi la crema mani e sapone, la spugna più il cofanetto o se no delle altre, di tutte le altre linee profumate, ad esempio la seconda che vediamo è il cocco, sia il set piccolo, quindi con il latte corpo e il bagno due gocce grandi, oppure il set, eccolo qui a 14,95 con le mini taglie, più la crema mani, sapone e la salghetta, e queste hai tutte le profumazioni, quindi mandorle e fiori d'arancio, lampone e menta piperita, oliva e pettigrain, mango e coriandolo, lavandina e mora e direi che saranno tutte, vediamo ora la promozione, questo è davvero un paletto speciale fino a fine scorte, perché ci sono le profumazioni del Natale 2017, quindi l'anno scorso, in promozione, bisogna però vedere che cosa è rimasto, perché quando esauriscono in questo caso, non sono più disponibili, quindi il vaniglia bianca, oppure bacche delle meraviglie, di vari prodotti, ovviamente fino a esaurimento scorte. Vediamo ora il set make up, che ve ne mostro uno, poi torniamo indietro, allora a 12,95 c'è il portapennelli in legno, più l'ombretto lunga tenuta, nel colore che potete scegliere, e la mattita occhi nera, sempre nera, quindi potete tranquillamente scegliere, eccolo qua, il set che preferite in base al colore dell'ombretto, questi ombretti sono davvero fantastici, perché durano tutto il giorno, ve li avete sempre recensiti benissimo, quindi il colore lo scegliete voi tra tutti i disponibili, c'è la mattita nera, sempre quella nera, e poi il portapennelli, che è davvero bello. Veniamo ora all'ultima promozione, perché abbiamo lo shampoo più il balsamo a 5,95€, ovviamente potete scegliere il balsamo che volete, con il codice rosso, eccolo qui, tra tutti quelli che ci sono disponibili, quindi tutti, e lo shampoo lo scegliete ovviamente tra quello che ci è adatto alle vostre esigenze, quindi quello per micelare detox, 3 in 1, purificante, delicato, lucentezza, crema delicato, quello lisciante, quello per i capelli ricci, brillante, volume, tutti quello che volete, ovviamente lo shampoo, il balsamo quello che preferite, con il codice rosso, e tutte e due a 5,95€. E questo era tutto l'album. Allora, abbiamo sfogliato tutto il catalogo, avete visto come sempre tutte le promozioni, tutte le offerte, tantissime cose, come sempre qui sotto nell'info box c'è il link per contattarmi, per le informazioni e per gli ordini, c'è sempre anche il link per scaricare il catalogo in formato pdf, così potete tranquillamente sfogliarlo su tutti i vostri dispositivi multimediali. Vi ricordo che questa è l'ultima occasione anche per fare gli ordini dall'album di Natale per ricevere i prodotti entro Natale, quindi scade il 5 dicembre questo album e scade anche, possiamo unirli a quello dell'album di Natale, così siamo sicuri che arriveranno entro Natale, speriamo. E non mi resta che augurarvi direi buone feste, ma ci risenteremo, e dei buoni acquisti naturalmente profumati con il magico naturale mondo di Brochet. Grazie a tutti!